Oggi vedremo i telefoni più costosi al mondo. Allora, iniziamo subito. Huawei. Allora, c'è un po' sporchino. Va bene. Cinque smeraldi. Ok, ce l'ho. Una, due, tre, quattro, cinque. Ok. Wiko. Andiamo a vedere. Pietra, quindi dovrebbe essere così. Fa così schifo che ti devo dare i soldi. Io i soldi. Ah! Samsung. Uh, carino. No. 20 smeraldi. 20 smeraldi. Tieni. Ok. Ok, 20 smeraldi. iPhone. Sì, vabbè, saranno calati i prezzi. Non è che... Non lo potrei mai comprare anche se vi vesti un milione di anni.